Stare molto attento e giocare lineare pulito, palla lunga Inter, Candreva, Candreva, no, 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 Dio mio, no. De Sciglio e Donnarumma fermi, gli abbiamo regalato il gol, gli abbiamo regalato il gol. Incredibile, incredibile. Ma va bene, dai, continuiamo a giocare, ragazzi, continuiamo a giocare. Continuiamo a giocare, però buttiamola dentro, santo cielo, perché è inaccettabile, dopo tante occasioni create, è inaccettabile prendere gol sul nostro regalo. Siamo stati fermi, l'uno aspettava l'altro e l'altro si è inserito. Gol di Candreva, rivediamo qui la palla lunga dell'Inter, che era in leggero fuorigioco, Candreva, oltretutto. Sono stati fortunati. La palla gli è carambolata giù al momento giusto, Mattia non è riuscito a trovarla. Ed è finita alle spalle di Giglio Donnarumma. Un grandissimo peccato, dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo avuto almeno cinque occasioni da gol, l'Inter ha fatto centro la seconda. 1-0 che c'era. Andiamo. È dalla sera del gol di Montari che gli Juventini continuano a ricordarci il fuorigioco millimetrico di Matri e noi ricorderemo adesso il fuorigioco millimetrico di Candreva. Lanza Perisic. Perisic la mette in mezzo, Icardi gol. Icardi gol. È il 2-0. Questo diventa pesante. Abbiamo... E il derby in questo momento si è deciso su quella palla a mezza e mezza per Candreva. Il derby era lì in equilibrio. Poi è andato tutto da una parte piuttosto che dall'altra. 2-0 che non ci sta assolutamente sul piano della prestazione, però se noi non l'abbiamo segnato e loro sì, bisogna, ahi noi, farcene una ragione. Adesso mi devo anche beccare il gol di Icardi nel derby. Prima o poi sarebbe arrivato, però insomma l'hanno chiamato in tanti ed è arrivato. Qui abbiamo la possibilità di rivedere. Perisic ha servito bene per Icardi, hanno dialogato bene loro. Perisic e Icardi sono due giocatori importanti per l'Inter. E qui arriva il raddoppio di Icardi. Donnarumma non è riuscito a incidere. Donnarumma praticamente non ha fatto parate, ha preso i due gol e basta. Due gol sui quali, sì, forse non c'è stata grande pressione nell'uscita sul primo gol di Candreva, che è quello che di fatto sta decidendo il derby. Tomo, Delo, 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 ingaggia il duello. Ennesima palla sulla quale si avventa Delo. Un buon cross allontana di testa l'Inter. La palla va in angolo, calcio in angolo per noi. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi, prima dell'85 si può fare a riaprirla, dai. Vediamo Suso, Suso, Suso. C'è il fianco scoperto di Nagatomo. Arriva Suso, il cross. La devi aggol, gol, da Romagnoli, Romagnoli dai, dai Alessietto, dai che si può fare ragazzi. Sempre con voi, comunque sia e comunque vada. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. La zappata di Alessietto, te lo meritavi Alessietto. Dai, dai, che c'è il fianco scoperto. Vai, Suso, Fernandestai, vai, vai Romagnoli mio, vai Alessietto vero, vai Alessietto giusto. C'è anche la deviazione di D'Ambrosio, gol di Romagnoli. Non voglio sentire storie. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Vediamo, vediamo. Alessietto. Urnalo gol Alessietto, urnalo. Attento Zap, ti prego di Amio. Bravo Zap, desci. Dai ragazzi, dai ragazzi, che c'è il sole sopra di lano. Dai ragazzi. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Dai, proviamoci. Adesso il replay rimane su questa palla, ma sta per arrivare il fisco finale. Gigio, butta la via. Gigio, butta la lunga. Sta finendo, sta finendo, sta finendo. Peccato. Alessietto, Alessietto. La palla si incaglia su Medella. Poi Gagliardini l'allontana. C'è ancora De Sciglio. C'è ancora Delo. Suso, Suso. Delo, Delo, Delo. Delo. C'è un'ultima palla. C'è un'ultima palla. Orsato irremovibile. Si va avanti. Orsato irremovibile. Ragazzi, buttiamo in mezzo la palla della vita. La palla della Santa Pasqua di Nostro Signore. Ecco Suso. Suso la mette in mezzo. E c'è... Andanovi. Goal. Goal. La palla della Pasqua di Nostro Signore. La palla della Pasqua di Nostro Signore. Vieni, pastore, vieni. Vieni. La palla della Pasqua di Nostro Signore. È la nostra palla. È la nostra palla. Dio, come siete belli. Dio, come siamo belli. La palla della Pasqua di Nostro Signore Gesù. È la palla della Pasqua. Zap, vieni. È la palla. Goal. Il verde della speranza. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Noi tutti, qui, nella redazione di Bielo TV. Vi voglio bene, ragazzi. Vi siete meritati il nostro cuore. Adesso il cuore scoppia. Ma ce ne faremo uno nuovo. L'importante è che sia sempre vivo il vostro cuore. Urlano Scarpini. Urlano adesso. Ed è gole, gole, gole. Amico mio Roberto. Urlano. Santuccione. Niaun. Santuccione. Niaun. Santuccione. Niaun. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. Un degno avversario. Icardi. Un forte avversario. Ma adesso è lì a riflettere, come dice Pelle Gatti, sulla caducità delle cose umane. Ragazzi, non ha più fiato. Ragazzi, non so proprio che scoppia. Icardone è andata così. Mi spiace. Grande avversario. Icardi. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. La vita sorride. Il cielo sopra San Siro che abbiamo tante volte invocato. Lo ringraziamo. Lo ringraziamo il cielo sopra San Siro. Il cielo sopra San Siro è nostro, Vincenzone. E Montella ci crede sempre.